In Forza Italia è scoppiato il caso. Silvio Berlusconi ha attaccato frontalmente Raffaele Fitto, da sempre suo fedelissimo, colpevole di aver votato no alla sua relazione presentata durante l'ufficio di presidenza del partito. Sei il figlio di un vecchio democristiano, se vuoi andartene vattene, queste le frasi più dure dell'ex premier, che poi ha fatto un passo indietro. Ho ritenuto di dire con franchezza affitto quello che penso, ed è con questo spirito che mi sono riferito alla sua appartenenza alla tradizione democristiana e non certo con l'intenzione di mancare di rispetto né a lui né ai suoi familiari, mi sono rivolto a lui come un padre a un figlio. Ho commissionato un sondaggio, avrebbe cominciato la sua invettiva Berlusconi, e con questi tuoi distinguo continui perdiamo voti, non fai altro che danneggiarci, invece bisogna lavorare sull'unità del partito. Se vuoi restare bene, ma non puoi sempre criticare su ogni cosa, altrimenti è meglio che vai in un altro partito, basta con tutte queste dichiarazioni contro di me. E ancora, ci fai perdere il 3-4% di voti? Se vuoi, ha argomentato l'ex premier, vieni a parlare direttamente con me, ma non andare in tv a parlare contro il partito. Il Cavaliere, raccontano i presenti, avrebbe fatto un accenno anche al passato. C'è stato, questa l'osservazione che viene riferita da chi era presente, un altro che si è comportato in questo modo e sai com'è finita. Se non sei d'accordo puoi anche fare un altro partito. Lo scontro si è acceso soprattutto quando l'ex presidente del Consiglio, sottolineano le stesse fonti, si è avvicinato a Fitto. Tu sei figlio di un vecchio democristiano, forse Italia è un'altra cosa, non c'è spazio per certi comportamenti. Ma qual è la colpa di Fitto? Il parlamentare pugliese avrebbe contestato le modalità del voto durante la riunione. C'è stato un episodio spiacevole, votare prima di discutere la relazione di Berlusconi. Questo fatto ha condizionato il voto sul documento. Fitto, insieme a Daniele Capezzone, ha espresso un voto negativo sulla relazione del Cavaliere. I voti contrari, ha spiegato, sono stati 2 su 36. Lecce, capitale europea della cultura nel 2019, ultimo atto. Lunedì prossimo una giuria internazionale di 13 membri sarà in città e in circa 6 ore cercherà di acquisire ogni elemento che poi supporterà la decisione finale del 17 ottobre. Il comitato promotore che ha come coordinatore artistico Ironberg ha definito il 6 ottobre il giorno dell'eutopia. Sono tantissime le iniziative che verranno messe in campo da associazioni, artisti, singoli cittadini perché all'inizio, ha ricordato il sindaco di Lecce Paolo Perrone, si era in pochi a credere in questo progetto ma con il passare del tempo il consenso si è allargato sempre più fino a poter affermare che si è in presenza di una candidatura della comunità. Il programma non prevede incontri ufficiali ed istituzionali perché i commissari vogliono girare liberamente in città per coglierne l'essenza e la potenzialità ad essere designata capitale europea della cultura. L'appuntamento clou sarà alle 12 nell'anfiteatro quando si spera che centinaia di cittadini con i sindaci delle province di Lecce, Brindisi e Taranto canteranno l'inno della candidatura anche con il linguaggio dei segni. Allora lunedì tutti insieme a cantare casa mia terra mia nel nuovo arrangiamento di Nando Pop dei Sud Sound System. Per chi poi non potrà resistere ai morsi della fame ci sarà una grande tavolata da Porta San Biagio fino alla chiesa di San Matteo con tutti i sapori e i profumi della cucina salentina. Cosa devono fare i Leccesi lunedì? Beh partecipare per chi ha voglia partecipare in massa agli eventi nei quali loro saranno protagonisti. Alle 12 di lunedì mattina per esempio aspettiamo all'anfiteatro per cantare insieme l'inno di Utopia. La commissione non viene qui per vedere le bellezze di Lecce, quelle sono arcinote. La commissione viene qui per conoscere ed entrare in contatto con la città, con il Salento, con il suo territorio. Quindi vuol dire conoscere ed entrare in contatto con la gente di Lecce del Salento. Per questo l'invito a tutti coloro i quali hanno dato una mano durante questo percorso ma anche a coloro i quali si sono aggiunti nelle ultime ore di partecipare a questi eventi perché in questo modo possono dare veramente una mano a spingere Lecce verso l'ottenimento di questo titolo straordinario. Ce l'hanno con i giornalisti. Gli ultralecce sul piede di guerra con la stampa locale dopo che nei giorni scorsi i giornali avevano diffuso la notizia dell'arresto da parte della polizia di un tifoso leccese accusato di aver acceso un fumogeno durante la partita a Lecce Paganese allo stadio di Via del Mare. Questa mattina gli agenti della questura di Lecce hanno trovato due striscioni con la firma degli Ultras con offese ai giornali locali in via Schipa e in via San Francesco d'Assisi a Lecce. Il primo striscione riportava la scritta giornalisti portavoce di Viale Otranto con riferimento alla sede della stessa questura. Il secondo striscione lungo 10 metri e alto circa 40 centimetri rivolgendosi ad una testata riportava invece la scritta siete come gli altri. Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incendio divampato la notte scorsa in un'abitazione di Casa Labate. Le fiamme hanno colpito la camera da letto di un appartamento in via Provenzano abitata da un uomo del posto di 65 anni. Tutto è partito dal mozzicone della sigaretta lasciato sbadatamente acceso che ha incendiato il materasso e poi parte del mobilio. L'uomo si è svegliato in tempo ritrovandosi in una nube di fumo e in preda allo spavento. È stato raggiunto immediatamente dai vigili del fuoco del comando provinciale e dagli operatori del 118. I pompieri hanno domato il rogo e messo in sicurezza la casa che al momento non presenterebbe danni strutturali. Il proprietario fortunatamente ha riportato solo una lieve intossicazione tanto da rifiutare il ricovero in ospedale. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Squinsano assieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi. Allarme dei sindaci salentini. Bisogna contrastare meglio la diffusione della xylella negli uliveti della provincia. Si è svolta oggi un'assemblea convocata dal sindaco di Bagnolo Sonia Mariano, presidente dell'assemblea dei primi cittadini con il coinvolgimento dell'assessore provinciale dell'agricoltura Francesco Pacella. La situazione è stata definita senza mezzi termini drammatica e potrà peggiorare se non si riuscirà a bloccare la diffusione del batterio e se non si farà pervenire agli agricoltori le risorse finanziarie adeguate. Bisogna intervenire e affrontare il problema con più responsabilità rispetto a come è stato affrontato fino a questo momento. Il problema sta prendendo veramente piede, si è divulgato tantissimo e le azioni di intervento sono poche. Innanzitutto quello che noi oggi con l'assemblea dei sindaci chiediamo è che sia posta l'attenzione veramente sul salento perché il problema della xylella sta portando il nostro territorio ad andare incontro ad una desertificazione e non è soltanto questo problema ma pensando anche e guardando al futuro sicuramente se non saranno presi provvedimenti seri, importanti, interventi per poter bloccare questo fenomeno sicuramente avremo anche altri problemi legati anche all'economia visto che purtroppo l'olio è uno dei nostri pilastri della nostra economia. Ultime novità sul fronte xylella? Beh, le novità sono purtroppo ancora poche perché seppur è stato individuato la zona per la fascia tampone purtroppo ci arrivano segnalazioni nei giorni scorsi, ieri e l'altro ieri che la xylella potrebbe aver già abbarcato il confine di provincia tra Lecce e Brindisi e questo evidentemente sta a significare che va bene il tampone però probabilmente al di qua del tampone andavano da qualche mese già avviate una serie di attività e di azioni per provare a ridurre la presenza del vettore che è a oggi l'unica cosa che può essere fatta. L'autunno riserva sempre sorprese e amare per i contribuenti alle prese con le novità e le specificità di ogni comuna. Parlare di giungla non è poi un'esagerazione, da qui la necessità per i commercialisti di aggiornarsi per meglio assistere i cittadini nei loro adempimenti fiscali. La categoria dei dottori commercialisti e esperti contabili ha sufficientemente studiato le novità fiscali, il problema è che da molti anni abbiamo novità fiscali, noi vorremmo che non ce ne fossero, vorremmo che ci fosse l'unica novità che così fosse enunciata, demolita la spesa pubblica, in particolare razionalizzata quella delle regioni, tolta alla regione la facoltà di gestire, riportato al centro dello Stato il governo della spesa, con conseguente contrazione della stessa, si da poter ridurre di 10 punti la pressione fiscale. Soltanto così noi riteniamo che si potrebbe riprendere il sistema economico, potrebbero tornare i capitali dall'estero, potrebbe venire una maggiore propensione degli italiani all'impresa. Un consiglio ai nostri telespettatori come affrontare queste scadenze? Non mancare di sentire i propri consulenti, i dottori commercialisti e gli esperti contabili che mai come in questo periodo di crisi stanno rendendo i servizi pregevoli. Si pensi un po', che potrebbe fare lo Stato che non dà risposte, che è insensibile se non ci fossero le libere professioni ed in particolare per questo argomento i dottori commercialisti e gli esperti contabili? Allora si vada in quella direzione perché si tratta di professionisti che sono innanzitutto cittadini sensibili, che non pretendono compensi spesso di sorta. Qualcuno pensa che si arricchiscano, ma in questo periodo notevoli sono gli studi fiscali e gli studi professionali che si chiudono, notevole il numero di coloro che pur essendo professionisti e chi servono qualche volta non sbarcano in lunario. Gianni Alemanno a Lecce per incontrare i dirigenti di Fratelli d'Italia in vista delle elezioni provinciali del 12 ottobre. Il loro candidato presidente sarà naturalmente Antonio Gabellone, mentre per il Consiglio provinciale punteranno sull'assessore di Leverano Giancarlo Erroi. Ad accogliere Alemanno, oltre a Gabellone, il componente della direzione nazionale del partito Roberto Tundo e il coordinatore provinciale Pierpaolo Signore. Lo scopo di iniziativa è sicuramente quello di denunciare ancora una volta le malefatte di questo governo che mai è stato eletto dai cittadini e che ha previsto una riforma assurda che è quella delle province, prevedendo un'elezione stranissima. Un'elezione in cui i cittadini vengono tenuti fuori dalle possibili scelte elettorali e si trova un sistema complicato che ad oggi ancora non abbiamo capito bene quando tra una settimana si andrà alle urne. Ma Fratelli d'Italia è un partito che rispetta le istituzioni, dura l'ex sed l'ex e quindi anche noi avremo il nostro rappresentante all'interno della lista Salento Futuro per Gabellone. chi è di destra, chi viene dal Movimento Sociale, dall'Alleanza Nazionale, non può che trovare in Giancarlo Eroi il candidato ideale perché è un candidato che ha un curriculum di quell'estrazione. 34 anni, assessore a Leverano. Un nuovo aereo per un nuovo tipo di addestramento nell'aeroporto militare di Galatina. E' stata effettuata ieri, infatti, la prima missione addestrativa con due istruttori del 61esimo stormo a bordo del nuovo velivolo addestratore T-346A dell'Aeronautica Militare, ad accogliere all'atterraggio i due istruttori tutto il personale del reparto che ha voluto festeggiare l'evento ritrovandosi proprio dinanzi agli hangar che ospiteranno i futuri velivoli. Il T-346A di costruzione italiana Alenia Ermacchi rappresenta il fiore all'occhiello della formazione operativa attraverso il quale si concretizza l'introduzione del sistema addestrativo ITS, Integrated Training System, e allo stesso tempo trasforma radicalmente la formazione dei piloti militari destinati a velivoli di quarta e quinta generazione. L'Università del Salento è nella classifica delle migliori università al mondo, stilata dal Times Higher World University Rankings, una delle classifiche più prestigiose a livello internazionale, accreditata dalla European University Association, la più grande organizzazione del settore, che riunisce 850 istituzioni accademiche in 47 paesi. L'Ateneo Leccese, per il quarto anno consecutivo, migliora così il proprio livello, guadagnando ben 70 posizioni e collocandosi al 263 posto. Questo lusinghiero risultato permetterà di continuare a utilizzare, con sempre maggiore orgoglio, il logo del ranking nella comunicazione istituzionale, come attestazione di qualità e prestigio. Il ranking si basa sull'analisi di 13 indicatori di performance, raggruppati in cinque aree. Internazionalizzazione, ricerca, citazioni, entrate dall'industria e didattica. L'Università del Salento si piazza a pari merito con l'Università degli Studi di Trento e, dietro solo a Scuola Normale Superiore di Pisa, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Milano Bicocca e Università degli Studi di Pavia. Il rettore Vincenzo Zara plaude all'importante risultato, frutto dell'impegno di tutti gli attori della comunità accademica, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici. Equitalia e Lega Consumatori insieme per un fisco più umano. Il fisco sempre più amico del cittadino, grazie alla collaborazione tra Equitalia e Lega Consumatori, Associazione a difesa dei consumatori. Il protocollo d'intesa di carattere nazionale è stato sottoscritto dall'amministratore delegato di Equitalia Benedetto Mineo e dal presidente nazionale della Lega Consumatori Pietro Praderi. L'intesa pone le basi per una capillare cooperazione sul territorio che renderà più semplice e rapido il rapporto con i contribuenti. Infatti, dopo la sottoscrizione delle convenzioni a livello territoriale, è prevista l'attivazione di sportelli telematici, a cui gli associati potranno rivolgersi per ottenere una consulenza dedicata e fissare un appuntamento nelle sedi locali per risolvere le situazioni più complesse e delicate. Continua il percorso di Equitalia che intende accorciare le distanze tra il fisco e i cittadini, ha detto l'amministratore delegato di Equitalia Benedetto Mineo. La nostra associazione promuove la campagna permanente di promozione della cultura della legalità, ha detto il presidente nazionale di Lega Consumatori Pietro Praderi. Per questo l'intesa con Equitalia, mentre rispetta i diritti dello Stato, contribuisce a creare le condizioni perché il contribuente possa compiere il suo dovere in maniera civile, corretta e sostenibile pur nella crisi che stiamo tutti attraversando. Da oggi, bambini e adulti salentini con disturbi specifici di apprendimento nel campo del linguaggio avranno a disposizione un centro specializzato a cui rivolgersi. Si chiama SOS Dislessia ed è un servizio presente in diverse regioni italiane per la diagnosi clinica specialistica e l'intervento riabilitativo nel campo dei disturbi del linguaggio, disturbi specifici di apprendimento e disturbi cognitivi. Anche il centro leccese, con sede in via Aldomoro, si avvale di un'equip specializzata coordinata dal professor Giacomo Stella e composta da personale con esperienza diretta nel settore. Offre servizi di screening, valutazione diagnostica, riabilitazione specialistica, potenziamento di attenzione e memoria, dopo scuola specializzato e ascolto alle famiglie. L'obiettivo di SOS Dislessia è soprattutto quello di fornire una risposta di valutazione e di intervento su un disturbo che frequentemente colpisce i bambini in età scolare, adottando così le linee guida del Ministero della Salute.